...al via ritirati Robert Sbar e Theré Dey Blasherd, salvaguita Regia Zotta, 1.86 la curta. In passata la curva di sinistra, ecco la macchina che entra nella retta delle tribune, prende ovviamente velocità ed è ormai prossima allo scatto, stacco Fiorboni in questo scatto, va davanti Rumara, Rumara al comando, Reimigno a Vitor... Numero 1, Reimbra, è squalificato. Arro Fonte, mentre è scarpata la squalifica per Rombra, sbaglio a Redaro, è rimasto lontanissimo Ruben, Drip, intanto Reimigno, va su Rumara. Numero 6, Reimbra, Reimbra, squalificato. All'esterno è risalita la favorita Regia Zotta, i 430, Reimigno, Rumara, Regia Zotta a largo, poi Rearwise a S con all'algo Ronchi, Sojet, ancora Raro, Rob, Brown, Reimigno al comando, con sui sentenziali in 45 e mezzo, Reimbra, che si preveste sui dati strada, a rimara su di lunghezza Regia Zotta, Ruben, Gritto, squalificato. Sojet, poi Rearwise a S all'algo dell'attuale, Robi, metà gara, povero Reimigno, in 1 e 1, si avvicina il bocco della curva conclusiva, Reimigno e Regia Zotta, poi Rumara e Ronchis. Bocco della curva conclusiva, la passaggio al primo chilometro sul piano dell'1, 16 e frazioni, con Reimigno al comando, Regia Zotta, poi ancora Rumara e Ronchis in coppia alle loro spalle. Ancora 400 alla conclusione, 3 quarti di Milio, con Pertino e 32, ingresso dall'alto di arrivo, la mossa in terza di Robi, controllato da Ronchis, che va su Regia, Reimigno, Regia che attacca, poi Ronchis cerca spazio Lunara, centroprista, Robi, Regia, Robi che chiude forte, poi anche Lunara, Robi che nel finale va su Regia, passa e va a vincere, facile Robi, mentre per il secondo posto Lunara forse...